Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti in cucina creativa. Oggi andremo a preparare l'insalata russa. Gli ingredienti sono due uova, due patate, tre carote, mezzo peperone rosso, una zucchina, tre pomodori, un cetriolo e della maionese. Iniziamo con la preparazione. Andremo ad aggiungere l'acqua in una pendola. Ora aggiungiamo due carote intere. E una l'andremo a fare a pezzettini. Sono state già pelate. E una l'andremo a fare a pezzettini. Ora andremo a fare a pezzettini le patate. Ora facciamo a pezzettini la zucchina. Ora versiamo il tutto nella pendola. Ora aggiungiamo le uova. Mettiamo un altro po' d'acqua. E andremo a lessare il tutto. Ecco, le patate, carote, zucchine e le uova sono bollite. Nel mentre si raffreddano andremo a preparare gli altri ingredienti. Andremo a fare a pezzettini il pomodoro. Faremo un po' a fette. Faremo un po' a fette. Una metà a fette. E il resto a piccoli pezzi. 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 Grazie a tutti. Il peperone lo stesso, ci serviranno un po' di fette lunghe, questo così e il resto a pezzettini. Ora andremo a sbucciare il cetriolo. Grazie. Metà a pezzettini e metà a fette. Grazie. 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 A fette lunghe. Grazie. 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 E ci aggiungiamo sopra la maionese. Grazie. Grazie. Ora le andremo a guardare sopra. Grazie. 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 Ed ecco la nostra ensalata rossa e pronta. grazie per aver seguito il mio video ricetta vi auguro a tutti una buona giornata e al prossimo video ciao a tutti e a presto